Codifichiamo in Java questo diagramma di flusso, composto da 5 blocchi, che ho già riportato qui. La classe si chiama Pari, e questo algoritmo permette di determinare se un numero inserito in input è pari oppure no. Diversamente da altri video, infatti in precedenza, cerco di individuare quali sono le variabili utilizzate da questo algoritmo e le vado a dichiarare tutte all'inizio. Ho la variabile numero e basta. Quindi dichiaro la variabile supponiamo di tipo intero, int, numero. Poi, siccome effettuerò l'input output a console, devo creare un'istanza della classe scanner uguale new scanner system.in Come sempre, importo la classe scanner, mi posiziono su scanner, import scanner. codifico il blocco 1 system.out.println inserisci il numero, tra virgolette. il blocco 2, invece, è l'acquisizione dell'input inserito dall'utente, quindi alla variabile numero, assegno ciò che è stato inserito, ossia console.trattandosi di un numero intero, utilizzo il metodo nextInt, punto e virgola. Il blocco 3 è una selezione, si traduce con lo statement if. if, aperta tonda, tra le parentesi, scrivo la condizione che si trova nel rombo, questo, numero, percentuale, due, uguale a zero. Vi ricordo che il simbolo di percentuale è un particolare operatore che si chiama modulo, che restituisce il resto della divisione intera tra il numero e, in questo caso, due. Mentre uguale uguale è l'operatore di uguaglianza, che consente quindi di verificare se ciò che c'è alla sinistra è uguale a quello che c'è a destra. Attenzione perché, a non confondervi, perché non si deve utilizzare l'uguale singolo, poiché l'uguale singolo è un particolare operatore che serve per l'assegnazione. Vi faccio anche osservare che questo blocco, che comprende 3, 4 e 5, è in realtà un statement unico, da considerare come unico. E, pertanto, sposto un pochino a destra con il tasto Tab, quindi faccio un'indentazione dei blocchi 4 e 5, perché stanno dentro all'IF. Subito, alla fine di questa riga, inserisco con Alt 123, una parentesi graffa aperta. Se io do invio, vedete che si chiude subito la parentesi. Consiglio di fare così per non dimenticarsi i pezzi per strada. Adesso però, siccome sto scrivendo anche il numero di blocchi, la metterò manualmente, la parentesi chiusa. Allora, questo blocco 4, in che cosa consiste? Il blocco 4, ce l'abbiamo qui, produce in output la stringa pari, quindi system.out.println, tra virgolette, pari. Certo, perché se il resto della divisione di un numero per 2 è 0, significa che il numero è pari. Ora vado a chiudere, con una parentesi graffa chiusa, questa prima parte che contiene tutte le istruzioni che si trovano sul ramo vero dell'IF. Qua abbiamo solo un'istruzione, quindi volendo le parentesi graffe le potevamo anche omettere. Tutto ciò che invece si trova sul ramo falso dell'IF deve essere racchiuso all'interno di parentesi graffe con parola chiave ELSE. Apro una parentesi graffa, invio, qui ho il blocco 5 che vado a mettere all'interno e l'istruzione è sempre un'istruzione di output, in questo caso però di dispari. Ecco qui. Andiamo ad eseguire. Inserisco un numero pari, invio, pari. Poi riavvio. Inserisco un numero dispari e il risultato è ovviamente dispari. Prima della chiusura del main vado a scrivere console.close per chiudere il flusso di input. Ed ecco fatto. Grazie a tutti.